Si è in presenza di uno spaccato del Consiglio Comunale denso di gravi episodi e reati, alcuni non ravvisati e contestati neppure nel processo base. E questa è una delle frasi più significative dell'ordinanza del GIP Salvatore Mastroeni, che parla di una vera e propria corsa alle 39 presenze, aperta e dichiarata, con l'obiettivo di mettere assieme il massimo dello stipendio, mentre di norma, partecipando a tutte le commissioni di cui si è componente, il singolo consigliere presenzierebbe a un massimo di 24 sedute. Tutti sapevano e vivevano quel clima d'eccezione di Nila Lopressi con le sue denunce e di Lucy Fenec con il suo tentativo abortito di dare una parvenza di rigore a commissioni farlocche. Il GIP tra i 40 consiglieri comunali ne salva dunque solo una manciata. Tra questi c'è anche Gino Sturniolo, che ha dimostrato un'intensa attività consigliare e, ancora di più, con le dimissioni assieme alla Lopressi, il totale disinteresse e l'accaparramento di soldi da poltrona. A documentare al Tribunale l'attività politica effettivamente svolta, secondo il GIP, sono stati infine anche i consiglieri Antonella Russo, Pippo Trischietta e Libero Gioveni.